Intervista al fotografo Maurizio Borserini che ha trascorso un'intera mattinata nell'ospedale di Varese immortalando la trincea del Covid. Rispetto ad aprile ho trovato grande organizzazione, racconta, ma anche molta stanchezza. Donateci il vostro sangue, la guarigione di tanti malati dipende anche da voi e l'appello che a SST Settelag rivolge a tutti coloro che hanno vinto la battaglia del virus. Nasce Univa Academy, un centro di formazione a portata di piccole media impresa. Presentata oggi si propone di sostenere il rilancio economico attraverso un'arma imprescindibile, la competenza. Giallo Ceresio vince la sfida 2020 con oltre 400 concorrenti, diversi vincitori e un risvolto sociale. Una grande vittoria per chi ha voluto il concorso e l'ha portato avanti nonostante tutto. Nella pagina sportiva il nuovo acquisto della pallacanestro Varese, battuta anche ieri, la pallavolo elipica con Michael Cadettu, campione e volto noto delle fiction. Seconda edizione del nostro Tg, buonasera e bentrovati. Nei titoli vi abbiamo già dato cenno delle notizie principali. Prima di tutto però vi mostriamo delle immagini che sono appena arrivate in redazione e che mostrano l'allestimento del campo base alle fontanelle da parte dell'esercito. Come promesso, infatti, alcuni soldati dell'esercito italiano sono arrivati a dare manforte ai volontari, agli operatori che si stanno occupando dei tamponi nel quartier generale di Varese, città e dintorni, cioè appunto l'area delle fontanelle dove sorge la centrale operativa della protezione civile. Bene, grazie a questo importante ausilio che adesso sta definendo le fasi di montaggio, domani mattina saranno attivi sette punti prelievi, quindi tutti quelli previsti. L'importante, sottolinea la protezione civile, è che i cittadini ricordino i drive, cioè il punto di esecuzione dei tamponi, apre alle 9 del mattino, quindi è inutile presentarsi lì all'alba perché poi l'attesa si fa davvero interminabile. Proseguiamo invece con la notizia di cui facevamo cenno nei titoli, cioè l'intervista al fotoreporter Maurizio Borserini, appena uscito dall'ospedale di Circolo, laddove è tornato per documentare ancora una volta la lotta al Covid. Maurizio era già stato all'ospedale di Varese ad aprile, è tornato questo fine settimana, ci ha concesso in anteprima le immagini evidentemente intense, ecco, diciamo così, che ha scattato all'interno dell'ospedale, ci ha raccontato un po' dal suo punto di vista quella che è la situazione trovata. Sabato vi racconteremo tutto, vi mostreremo tutte le sue immagini e vi trasmetteremo la versione integrale dell'intervista. Ecco intanto un'anticipazione. La prima domanda rispetto ad aprile, che differenza hai trovato? Allora, sicuramente la differenza è stata innanzitutto, purtroppo ci sono stati più ricoveri, quindi abbiamo molti più pazienti all'interno della terapia intensiva, sia nel reparto del terzo piano dove è dedicato solo al covid, dove ho incontrato molti più pazienti, ahimè in molti con problemi appunto di respirazione. Rispetto ad aprile questo dato un po' mi ha allarmato, infatti inizialmente l'ho vissuto un po' in modo negativo, ho fatto anche più fatica rispetto alla prima volta. La prima volta ero impreparato, non sapevo cosa mi stesse accadendo, non sapevo entrato da quella porta cosa trovavo. Questa volta invece ero già pronto eppure ho fatto molta fatica. Non è stato facile entrare e vedere questa situazione. Situazione anche da parte degli infermieri molto più, sì, vero, molto più preparati rispetto ad aprile, però dall'altra parte devo dire che anche molto più stanchi, molto più agitati, perché comunque la situazione è delicata. In linea di massima di che età stiamo parlando? Hai incontrato un po' di tutto o in prevalenza anziani? Allora, in prevalenza anziani, però devo dire che c'è anche un bel numero di giovani, giovani intendo comunque dai 35 ai 45 anni. Due casi li ho visti in terapia intensiva, mentre nel reparto Covid invece ho visto qualche giovane in più. Anche questa è una differenza rispetto a quello che era ad aprile, che avevo visto perennemente solo anziani. Come detto, l'intervista integrale al fotografo Borserini sarà in onda nello speciale TG di sabato, all'orario dei notiziari. A proposito di lotta al Covid, accorato appello di SST Settelaghi affinché chi è guarito dal coronavirus si faccia avanti per donare il proprio sangue, il plasma iperimmune. In sovraimpressione trovate tutti i recapiti, lo 0332 27 82 40 da chiamare tra le 8 e le 13 oppure inviando una mail a segreteria.immunotrasf-sst-settelaghi.it Ecco, questi sono i recapiti per farsi avanti, è un gesto importante perché può davvero spingere verso la guarigione tanti malati. Dopodiché però c'è anche chi si lamenta, chi protesta, chi scende in piazza nonostante sia proibito. È successo sabato a Varese. Gli appelli, le scritte, lo spirito sono gli stessi che animavano piazza Montegrappa nella prima autentica mobilitazione di sostegno alle attività più colpite dalle ordinanze anti-Covid. E anche la firma in calcia è la stessa, il Comitato Varese Libera. In prima linea ritroviamo Francesco Tomasella, ostile a regole che ufficialmente si dicono restrittive ma che lui bolla come liberticide. Libertà! 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 E' soprattutto il numero di partecipanti. Diverse centinaia la prima volta, un'ottantina a questo giro. Il motivo è semplice. Allora manifestare era consentito, oggi no. Siamo in zona rossa, gli assembramenti sono vietati e per uscire di casa servono ragioni valide. Protestare non è tra queste. Qualche irriducibile però raccoglie la sfida dandosi appuntamento in piazza Giovani Italia. Le mascherine restano un'eccezione. Gli striscioni inneggiano la difesa del popolo e ribadiscono il proprio no a chiusure e limitazioni. I cartelli evidenziano il diritto al lavoro, alla pratica sportiva, alla voglia di vivere. Il bersaglio grosso è sempre lo stesso. Dittatura sanitaria. La cita più volte Tomasella e con essa i politici che considera complici. Premier Conte, governatore Fontana, ma anche Salvini e Meloni. Poi la provocazione. Fatemi firmare una carta in cui mi lasciate libero di vivere la mia vita. Se mi ammalerò di Covid, dice, voi non dovrete curarmi. Dopodiché tutti in piazza Montegrappa per cantare l'inno ed esporre le parole d'ordine della mobilitazione. Nei paraggi, inconfondibili agenti in borghese osservano e vigilano in modo discreto e costante. Nessun disordine, nessuna tensione. E dai Varesini, poca curiosità, l'eco della protesta pacifica si spegne poco dopo le 17 in una Varese sonnolenta, socchiusa e dal punto di vista emotivo un po' distante. Dalla cronaca, un ragazzo di 23 anni, costretto ai domiciliari per una rapina, in base alla quale era stato condannato, dovrà scontare il resto della pena in carcere. Infatti, pur trovandosi confinato ai domiciliari, ha visto bene di minacciare di morte i propri vicini, tra i quali un anziano di 80 anni, al quale ha anche rifilato una violenta testata. Sono intervenuti sul posto a Varese gli agenti della polizia, lo hanno portato dietro le sbarre. E' Margherita Silvestrini, candidato sindaco del centro-sinistra a Gallarate. L'ufficializzazione della sua candidatura è stata resa sabato in un incontro online con i media. Margherita Silvestrini, volto noto del PD cittadino e provinciale, ha già ricoperto la carica di assessore ai servizi sociali. La mia testa e il mio cuore sono qui, in città e per la città, così ha detto Silvestrini. Nelle prossime settimane avremo modo di conoscere più da vicino il suo programma e naturalmente confrontarlo anche con quello dell'uscente Andrea Cassani e degli altri eventuali candidati che da qui alle prossime elezioni amministrative si faranno avanti. Adesso la pagina economica che ci porta in Unione Industriale per una novità che fa rima con Formazione. Formazione, una delle parole d'ordine più scandite dell'era moderna. Il cambiamento impone un passo diverso, una flessibilità pratica e culturale capace di aggiornarsi continuamente, individuando e ricercando nuovi ambiti di specializzazione. Nasce da questa consapevolezza la Business Academy dell'Unione Industriale, che fa capo a Univa Servizi e da forma a solidità e struttura un'attività formativa già rigogliosa. L'iniziativa affianca tanti incontri a distanza degli spazi fisici per lezioni frontali e si muove su diversi ambiti, marketing e vendita, sistemi di gestione, digitalizzazione, export, internazionalizzazione, finanza d'impresa, sicurezza, innovazione, sviluppo, fisco, senza trascurare il concetto di sostenibilità in termini ambientali e di radicamento territoriale. Perché dobbiamo riposizionare le nostre imprese in quelle nuove catene di valore che ormai stanno completamente stravolgendosi dopo questo periodo di epidemia. L'attività di formazione già fornita da alcune grandi aziende viene così estesa, resa accessibile e garantita al tessuto medio-piccolo che potrà trovarvi un prezioso interlocutore, nonché un trampolino di rilancio. L'obiettivo dello sforzo che stiamo facendo, coinvolgendo un significativo di imprese nel territorio, è quello, oltre a creare un modello di analisi di farbisogni formativi legati al tema di cui citavo prima, è quello di facilitare la diffusione delle buone prassi, di progettare e derogare azioni formative che siano poi in grado di trasferire in traditore, a manager, a figuri radicali delle imprese dei modelli di formazione che possono permettere poi la transizione da un business lineare a un business circolare. Un nuovo parcheggio alla Vena Ponte Teresa, il progetto è stato presentato oggi dal sindaco Massimo Mastromarino e fa riferimento a finanziamenti di un progetto Interreg intitolato U2 Teresa. Un milione di euro sul tavolo per un'area parcheggio da 120 posti auto a servizio dei frontalieri, del commercio e anche del nuovo poliambulatorio. La struttura sfrutterà il dislivello naturale di via Argene prevedendo due livelli, ciascuno con circa 60 stalli con ingressi separati dalla stessa via. Particolare attenzione è stata posta per l'inserimento ambientale e paesaggistico, insomma per contenere l'impatto della struttura. Questo spiega il sindaco di Ponte Teresa. Adesso ci spostiamo nei pressi della cittadina, cioè a Porto Ceresio, dove si è chiusa con grande successo l'edizione 2020 di Giallo Ceresio, concorso letterario nato in punta di piedi, ma già noto in tutta Italia. Il dolore è forte, quasi insopportabile. Le tempie pulsano con un ritmo che accelera ogni respiro. Gli occhi sembrano sul punto di esplodere. L'uomo cerca di mettere a fuoco qualcosa che possa diventare ancora di salvezza. Si apre così Nero a Milano, romanzo con cui Romano De Marco ha vinto il Giallo Ceresio 2020. Ad Andrea Martini il premio per il migliore racconto inedito. A Rebecca Panei il premio Giovani intitolato Claudio D'Albertis. A Gioia Senesi quello per giovani autori di racconti. Dario Galimberti porta a casa il premio Laghi. Gabriella Volpi il riconoscimento per il miglior scritto ambientato a Porto Ceresio. Da evidenziare la componente sociale del concorso, i 22 racconti finalisti saranno inclusi in un'antologia edita dai fratelli Frilli che devolverà il ricavato a Fondazione Ascoli per il progetto L'Arcobaleno di Nichi. Fin qui la cronaca, ma il successo di Giallo Ceresio merita qualche parola in più. Oltre 400 opere in corsa, un livello artistico di tutto rispetto e uno sfondo narrativo che affianca alla promozione della scrittura di qualità l'ambientazione lacustre, non solo paesaggio ma personaggio e coprotagonista di thriller noir e polizieschi. Insomma, nato in punta di piedi, il concorso è subito esploso, conquistando adesioni, seminando passione, raccogliendo consenso, attraversando a testa alta i grandi numeri i mesi di lockdown e l'arrivo della seconda ondata e attirando centinaia di partecipanti da diverse latitudini e di diverse generazioni, visto che l'età dei romanzieri in corsa va dai 20 ai 91 anni e quella degli autori di racconti dai 16 ai 93. Un plauso agli scrittori, ai giurati, al pubblico, a partner, sponsor e sostenitori. Un enorme grazie a Jenny Santi, ex sindaco, nonché infaticabile motore di Giallo Ceresio e a Carla De Albertis, artefice, energica e carismatica, ma anche scopritrice di Giovani Talenti. Tra poco, dopo questa edizione, torna l'appuntamento con Varese Mese. Si parlerà di discriminazione di genere, non solo come fenomeno sociale e culturale, che purtroppo fa male alla nostra società, ma anche come problematica che nuoce all'economia. È un fenomeno che sento molto a livello anche morale ed etico, soprattutto in virtù del mio genere. Io ritengo che sia necessario avere dei supporti per la donna, sia necessario finalmente intraprendere una politica seria, costruttiva e soprattutto, diciamo, costante nel cercare di dare alla donna i supporti di cui ha bisogno. Ma questo perché? Sicuramente per il fatto che se ne gioverebbe l'intero paese, cioè il PIL dell'intero paese, se ne avrebbe un giovamento e di conseguenza credo che sia doveroso, so che a livello europeo probabilmente si stanno intraprendendo azioni in questo senso, però credo che sia doveroso da parte del nostro Stato, del nostro governo, finalmente, di dedicarsi ad una politica seria in questo senso. Deborah Paglieri, presidente e amministratore delegato dell'omonima Grande Marca, è il volto di copertina del numero di novembre di Varese Mese dedicato all'impatto del Covid-19 sull'universo femminile italiano, soprattutto in termini economici e quindi anche di minora autonomia finanziaria con tutte le ripercussioni del caso sul mercato. Lunedì 9 novembre alle 20.05 su Rete55 parlerà della crisi in cui versa il mondo femminile, ma anche dei buoni risultati che, assieme, si possono raggiungere pure in un anno così difficile. Anche in questo travagliato 2020, complice sicuramente il settore di cui vi occupate, il vostro bilancio è positivo, giusto? Sì, devo dire di questo, sono veramente molto molto contenta. Io in azienda ho tantissime donne che lavorano, anche ovviamente in posizioni dirigenziali, ma non potrebbe che essere così, visto che comunque io parteggio per loro e sono convinta e credo molto nella necessità di affermare e di rendere la donna assolutamente paritetica rispetto all'uomo. E noi, di fatto, siamo andati molto molto bene quest'anno, abbiamo registrato uno degli anni migliori della storia della Paglieri e quindi sono più che mai soddisfatta e convinta che a questo risultato abbiano contribuito anche le mie colleghe donne. A tutti buonasera, per domani prosegue tempo stabile, parzialmente soleggiato, ma con passaggi nuvolosi irregolari senza precipitazioni, sulla pianura presenza di nebbie e nubi basse, in particolare durante le ore più fredde. Le temperature massime attese da 14 a 16 gradi, mentre le minime tra 5 e 8 gradi. Dopo le sigle, la pagina sportiva vi anticipo che la pallacanestro varese ha ufficializzato l'ingaggio di Jalen Jones, il quale ha firmato con i biancorossi un contratto valido fino al termine di questa stagione. Stagione difficile perché, come sapete, Open Job Metis è incappato in un'ulteriore sconfitta. Si tratta di un'ala americana di 2,01 metri per 103 kg, un giocatore di grande energia che ama giocare in campo aperto, attaccare il ferro, dimostrare sempre grandi doti fisiche e atletiche con oltre 30 presenze in NBA. Poi si parlerà di Ipica, si parlerà di pallavolo, ma se ne occupa il collega Filippo Brusa, dopo le sigle. Grazie, arrivederci.